Non ci ferma nessuno questa mattina fino a dove possiamo arrivare? Finché non ci fermano insomma. Tra poco probabilmente. Domani protagonista del primo spettacolo che dà il via al Ferragosto Avellinese. Non ci ferma nessuno. Eh sì, il mio tour che porta avanti dal 2014, una campagna sociale che vuole motivare le persone a credere in se stessi. È nata per gli studenti universitari, abbiamo veramente girato tutte le università italiane e poi insomma questo messaggio così utile a tutti indipendentemente dall'età può diventare veramente qualcosa di potente e quindi domani ore 19 nella traversa qui del Cinema Partenio del Corso di Avellino ci sarà questa prima tappa avellinese e sono emozionatissimo. Eh questo ti volevo dire e mi hai anticipato perché davvero non ti ferma nessuno e lo dimostrano le tue incursioni in Stiscia la Notizia però ti senti un po' emozionato perché è la prima tappa ad Avellino. Cosa provi nella tua città? Guarda io vabbè racconto un po' la mia storia e raccontando soprattutto tutti gli aneddoti difficili tutti i momenti complicati che ci possono essere dietro il percorso di una persona e quindi Avellino è al centro comunque di questo racconto e quindi giro ormai da tanti anni parlando proprio di questa città quindi parlare di questa città in questa città è particolare poi se ci aggiungi che saranno tantissime le persone, gli amici, le persone che ho conosciuto negli anni e che hanno partecipato comunque al mio percorso e allora ti rendi conto che veramente si tratta di un evento di quelli potenti, di quelli belli. Sono arrivati davanti alla chiesa del Rosario, una preghiera in questo caso anche per lo sport avellinese. Avellino è sempre stato associato allo sport siamo stati capaci veramente di creare negli anni una realtà, una favola sportiva in vari settori, in vari ambiti, in varie discipline che ha fatto scuola e vedere che all'improvviso tutto crolli, tutto debba tramontare ecco sembra qualcosa veramente impossibile. Io ancora oggi non ci credo, nel senso che mi sono trovato da vedere le gesta dei fuoriclasse dell'NBA e oggi ci ritroviamo senza probabilmente una squadra che gioca al basket professionistico quindi insomma è qualcosa di scioccante se vogliamo. Io fatico ancora a rendermene conto. Intanto ti vediamo in splendida forma, versione on the beach, la bette di mare. Luca intanto ci vuoi fare un saluto a tutti gli amici dei spettatori ricordando che domani c'è un appuntamento da non perdere che vedete come protagonista, l'avvio del Ferragosto Avellinese con Luca Abeta e non ci ferma nessuno. Sì, torno ad Avellino con questa tappa molto molto intensa del mio turno Ci ferma nessuno un monologo durante il quale parleremo di difficoltà, ostacoli e quanto sia importante affrontarli nella maniera giusta per affermare se stessi e dall'affermazione di se stessi forse può nascere anche una realtà che ci circonda migliore e questo potrebbe essere il riscatto per l'Italia, per il sud, per la città di Avellino perché se tante persone cominciassero a urlare e non ci ferma nessuno convinti, veramente dandosi da fare, probabilmente tante cose potrebbero andare meglio. Quindi l'appuntamento è per domani alle 7, Corso Vittorio Emanuele ci sarò io, ci sarete voi, urleremo insieme, non ci ferma nessuno.